Oliver James Associates è una società inglese specializzata in servizi di recruitment per il mondo dei servizi finanziari, dell'ambito telecommunications e energy. Quando eravamo in fase di setup della Business Unit italiana, degli uffici italiani, la nostra priorità era quella di ricercare uno spazio che ci permettesse di inserirci nel contesto milanese con agilità, con semplicità. Da una parte l'azienda e la persona trovano un luogo di lavoro, un ufficio, un ufficio che tendenzialmente è flessibile, scalabile, che come costo complessivo magari costa anche meno dell'ufficio tradizionale. A Copernico c'è subito apparso come un partner potenziale molto flessibile, molto disponibili, sia da un punto di vista di soluzione che anche poi ovviamente da un punto di vista di approccio umano. Il tema di fare una sorta di attività di hackeraggio dei billing, aprendoli all'esterno, connettendoli gli uni agli altri, significa in qualche modo introdurre una logica di rete, di piattaforma, che pone le aziende, quindi gli imprenditori in primis ad aprirsi al confronto e ripensare quindi gli spazi, perché gli spazi di fatto poi abilitano delle modalità di lavoro differenti. Vogliamo sempre di più valorizzare quello che non è un investimento sul real estate, ma quello che è la possibilità di usufruire di un concept moderno di spazi lavoro, con la possibilità di fare ovviamente ecosistema. Sicuramente la crescita di Oliver James, di questa società, andrà di pari passo con quello che potranno essere i servizi offerti su Milano, su altre sedi da Copernico.